Erano ricercati da oltre un anno ma gli investigatori del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Agrigento gli stavano collefiato sul collo sin dal primo momento e dal termine di una intensa attività info-investigativa li hanno localizzati segnalando la loro posizione alle autorità di polizia tedesche. E' finita così in Germania, nel land della Renania, la fuga di Francesco Sortino, trentenne, e del fratello Salvatore Sortino, ventinovenne, catturati in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dal Tribunale di Agrigento il 25 maggio scorso. I militari dell'arma di fatto non li avevano mai persi d'occhio sin dal mese di aprile dello scorso anno quando i due fratelli si erano sottratti ad un ordine di carcerazione dovendo scontare la pena di sei anni di reclusione per estorsione. Sono stati ricostruiti tutti i loro contatti e gli ultimi spostamenti che dalla Sicilia hanno portato i militari del reparto operativo alla loro localizzazione in Germania, a Grosleim, piccolo paesino di circa mille abitanti, situato nel circondario di Magolza-Bingen. A carico dei due elicatesi, carabinieri della compagnia delicata, nel corso di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica e degrigento, avevano acquisito gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione commesso nei confronti di un imprenditore agricolo onarese, accertando che la vittima era stata costretta in più occasioni ad elargire i due fratelli cospicue somme di denaro, con la minaccia che in caso contrario gli avrebbero danneggiato le sue aziende di proprietà. Al termine del relativo processo, che si è concluso nell'aprile del 2017, è stata confermata la responsabilità penale dei due fratelli, i quali sono stati condannati a sei anni di reclusione. Nelle prossime ore i due elicatesi saranno estradati in Italia e ristretti in carcere.